buonasera buonasera a tutti come sempre inizio a parlare subito perché vedo che il pubblico è lì dietro gli schermi infatti ancora prima di cliccare su go live vedevo che il mitico giusimo il mago dei mercatini era già lì pronto lo stesso gg gladio era lì bello pronto e vado subito poi a ringraziare luca comello che ancora prima di dare inizio alla live mi ha subito offerto magari una bella bevanda fresca qui ho l'acqua ghiacciata aria condizionata accesa non so da voi ma tolentino in provincia di macerata nelle marche oggi giornata calda di quelle pazzesche mancano esattamente 10 minuti all'inizio delle offerte del prime day 2021 come sempre ditemi se mi vedete e se mi sentite bene soprattutto dovete sentirmi bene e ovviamente è un'occasione per vedere insieme le offerte ma un'occasione per farci una bella chiacchierata insieme vado a salutare un altro po di gente c'è anche robie 2.0 che dice spiegatemi la live deve ancora iniziare e c'è già un dislike devo ammettere mia colpa mia colpa mia grandissima colpa che quando ho fatto il video sulla street photography ho sollevato un polverone però succede quando si dà un'opinione io dico sempre la fotografia sono punti di vista io ho raccontato il mio punto di vista che ovviamente non è che sia il punto di vista che fa leggere una fotografia no no è solo il mio e posso sbagliarmi quindi sono opinioni comunque vado a salutare chi altro si è collegato aldo over ciao gianluca ciao aldo saluto poi a pasquale leo saluto de mister migestara saluto a fabrizio paoletti sono tutti si sente benone bene quindi dal punto di vista tecnico ci siamo assolutamente poi vado a salutare francesco gallo saluto che dice che in calabria 40 gradi da noi è stata una giornata neanche tanto calda 35 gradi ma con un cappone che ci potevi fare un brodo chi si intende di brodini mi capisce saluto il signor e quando tu ti scegli un nome per andare online lo scegli bene corto faccio ricordare e più corto dico sì non si fa robito zanetti mi sei apparso come la madonna di fatima insomma la madonna di fatima penso che stia messo meglio di tutti e giuseppe grazie giuseppe ragazzi non esagerate il sostegno è sempre utile è sempre utile per mandare avanti il canale dove spero di portare sempre contenuti più interessanti possibile il dislike l'ho messo io allora era uno scherzo bello e buono siamo già in 89 e ho fatto la mia storia su instagram quando seguitemi come gianluca.watch dicendo chi dorme non prende offerte e invece rispondendo a uno che mi segue soltanto unicamente su facebook che mi dice ma io sono povero in realtà le offerte di amazon sono utili anche per i poveri perché in realtà puoi investire mai i soldi il mio consiglio ve lo dico fin d'ora è comprate però solo se vi serve qualcosa quello che succede ci sono caduto anch'io quando ero giovane e inesperto è di dire c'è l'offerta lo compro perché in offerta no compralo se ti serve quindi per esempio dove comprarmi un mouse nuovo di quelli da viaggio bluetooth perché l'ho schiantato quello mio ufficiale quello cerco poi certo esce magari il cd che compra tantissima musica in offerta profitti però comprare che non so un televisore solo perché un'offerta ma perché il televisore che hai adesso non va bene e vi dico anche per i 111 già collegati che le offerte di cui parleremo saranno quelle che riguardano fotografia e audio poi ci sono mille canali mille amici su youtube ne vedo tipo il mitico gesualdo sonia faretti a farti quella barba così bianca carissimo gesualdo tu mi capisci ma tu gesualdo sei bello come il sole e c'è manolo agostini che dovrebbe avere se non sbaglio due anni più di me ma fate essere così belli qual è il vostro segreto ditemelo che quello non lo mettete su teleram questi segreti non ti racconta nessuno salutiamo un altro po di gente andrea zantezouken x diciamo prima ti chiami e va bene ti chiami xantezouken tredicesimo è un po impegnativo tengo d'occhio l'orologio ci mancano qualsiasi minuti saluto a claudio rispoli a giuseppe murabito nicola bruno gianluca non finisci mai di stupire io mi diverto ragazzi il bello qui su youtube l'ho detto su alcuni video tipo quelli sulla quando ho fatto i 50 mila che questa è la mia isola felice il mio lavoro di informatico un lavoro tosto specialmente in ospedale in periodo covid questo è il mio mondo di relax quindi lo faccio con piacere soprattutto perché c'è l'affetto del pubblico saluto a giuseppe lenza saluto a massi di mister mj star dice che comunque l'audio buono saluto a salvatore cosimano ragazzi state commentando a bomba poi quando andiamo sulle offerte se mi se mi perdo qualche commento perdonatemi claudio rispoli che categoria vedremo su amazon stasera vedremo foto e audio sono queste le due tanta foto perché solitamente ho visto negli ultimi anni sull'audio mi aspetto le cuffie di sennheiser quelle sono quasi un leitmotiv però se le sue fotografie c'è molta più ciccia saluto a mario pio in neo e mancano quattro minuti nicolime se io vedo un po sgranato ditemi ragazzi perché io sull'anteprima io mi vedo bene ho la mia canon eos m50 che è la mia compagna di live alimentata quindi la batteria non mi dà problemi blu yeti per quello che riguarda gli aspetti vocali quindi tecnicamente ci sono se la fibra non mi inganna sarà una bella live siamo poi già 134 persone che non dormono per beccare le offerte saluto a koji kabuto un nome se non sbaglio da cartoni animati di quando eravamo bimbi tetti io ciao c'è luco buonasera per l'audio tutto ok you gottis ok fraccata di messaggi come direbbe la fra con cui ho fatto la penultima live saluto a michele facchinelli mario resci che ci augura una buona live spiavo ragazzi di divertirci ho detto la live è un'occasione per chiacchierare tra di noi ma per sperare di trovare delle belle offerte che saranno poi comunque perché durano due giorni le offerte il prime day nel link a telegram qui sotto qui sotto trovate due link in descrizione il primo è la pagina di prime quindi potete anche voi tenerla d'occhio la seconda il canale telegram dove io metto pochissime offerte mediamente una al giorno perché sono sempre offerte legate al mondo della fotografia al mondo dell'audio e le verifico quindi se vedo che non c'è un reale risparmio se non è un minimo storico non le metto quindi se volete un canale con poche offerte quindi che non vi sta a bombardare notifiche canale telegram qui sotto saluto a giuseppe la monaca e mancano tre minuti saluto alessandro scaccianuce che saluta giustamente a tutti a nelio monte saluto poi a michele valente butti grande c'è luca quando fai un video sull'hi-fi non avete visto il fuori dalle scatole che ho scelto ieri andatelo a vederlo ci sono cose che riguardano il mondo dell'ascolto soprattutto quello in cuffia che sapete a me piace molto e alla fine dico e faccio vedere due diffusori che sono lì sullo sfondo arriveranno sabato sto testando un impiantino economico come piace a voi mi piace a tutti quelli che hanno che non nuotano nell'oro e quindi insomma saluto prossimo si torna a parlare di alta fedeltà di quella abbordabile gippalippa mentre mancano due minuti la cosa tattica è fare una lista di cose che servono e se sono un'offerta prenderle esatto e questo discorso ovvio la live come dicevo in questi dieci minuti è un'occasione per chiacchierare per andare a vedere le offerte più interessanti e live le andrò a scrivere su telegram quindi se avete sonno se domattina valzate presto per andare a lavorare o cose del genere canale telegram tutte le offerte resteranno lì però intanto ci si fa una chiacchierata e ci si diverte in compagnia francesco gallo speriamo in tante belle offerte su cuffie e vinili dita incrociate sempre a bestia enrico turchetti ci trovi amplificatori con dsp per il mai fai se parli del video di sabato non lo so le offerte di oggi mi sono segnato un po' di marchi quindi vediamo essere fatto in mente che yamaha ogni tanto scusate la gestione ha messo cose carine se no si casca una trappa di offerte si la scimmia d'acquisto è dura per esistere manca un minuto quindi già metto la doppia schermata presso io grande e qui piccolo appunto la parte mentre dopo lavoreremo così adesso così stream yard ragazzi se siete dei streamer su youtube stream yard è straconsigliato e io sto utilizzando la versione gratis allora sì cerchiamo di beccare le offerte vere ragazzi è mezzanotte sorso d'acqua mentre c'è un altro paio di saluti al volo mi fermo qui con questo ciao ciao luca andiamo un po' a vedere cosa c'è qua io faccio a giorno è mezzanotte eccolo prime day ok allora c'è una cosa che mi interessa però non so se andarla a vedere subito oppure dopo vediamo se l'ho messo subito amazon warehouse no allora vediamo se ci riesco perché c'è uno solitamente lo sconto sull'usato oh non mi scrollare male non mi scrollare male perché non mi fa vedere quelle sezioni sotto ok lo vado a cercare dopo c'è deve stare lo sconto sull'usato ma io voglio andare su prime day iniziamo con un marchio a caso canon pronti ok ok ma dai ok ragazzi subito 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 controlliamo quello che dice kipa allora io vi consiglio di installare questo aggiunta io utilizzo chrome per navigare kipa è un programmino che permette di controllare l'andamento dei prezzi e il minimo della canon eos rp full frame era stato il 2 giugno 1049 euro adesso ragazzi 871 euro penso che sia un minimo per una mirrorless uscita questa nel 2018-19 comunque 18 2018 o 19 insomma ragazzi a questo prezzo è incredibile e c'è anche l'ottica da abbinare ma adesso mi vedrete cliccare ma seguite sul canale telegram qui sotto e vedrete quello che sto facendo perché vado a segnalare questa offerta che è davvero tanta tanta roba io scrivo sempre bene i prezzi prima prezzi dopo quindi prima stava a 1049 euro ragazzi che figata se non avete se voi si dice ok voglio farmi la mia prima mirrorless full frame formato pieno 871 euro dell'incredibile infatti come sempre ci scrivo anche due righe inizia con il botto il prime day 2021 con minimo storico per la mirrorless full frame di canon ovvero ci scriviamo sempre la canon rp ci mettiamo il link ci mettiamo l'immagine state vedendo tutto dal vivo boom ma giustamente io ho visto torniamo indietro che c'è la combo perfetta allora io ho fatto il video su youtube se volete andare a cercare canon eos rp lo trovate secondo me la canon eos rp con il 35 mm macro apertura 1.8 è la combo perfetta io ho sempre detto nei miei video comprare una full frame e metterci un'ottica 5.6 il 4-5.6 è davvero una contraddizione è la classica ferrari ma con le gomme della panda minimo secondo me su un full frame ottiche 2.8 meglio ancora 1.8 35 mm è un'ottica fantastica fate un passo avanti diventa come un 50 mm fate un passo indietro come un 28 mm ci fate tutto e è anche macro e quindi volete andare molto vicino al soggetto magari anche un fiorellino, l'ape, quello che volete potete farlo però prima di andarlo a segnalare su telegram controlliamo il prezzo oddio stava il 13 luglio a 4.62 4.40 comunque è un minimo storico e quindi si va subito di là su telegram a scrivere quindi 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 copia e incolla la parte alta boom copia e incolla il prezzo di partenza che è 5.79 comunque Canon con questi due prodotti l'RP e il 35 mm macro ha sempre fatto ottimi prezzi brava Canon che comunque se sei competitivo sui prezzi è banale ma ti apri il pubblico poi invio invio e dico combo perfetta con la EOS RP per un fisso macro luminoso al minimo storico due punti ci mettiamo il nome completo ed anche un'ottica IS quindi stabilizzata ci mettiamo il link ci mettiamo la foto boom invia e torno un attimo ragazzi qui da voi direi partenza col botto ovviamente diciamo prima scimmie con attenzione cercavate una mirrorless full frame con ottica con cui partire benissimo nella fotografia sì link qui sotto appunto in descrizione su telegram questa Canon EOS RP alza un pochettino l'aria condizionata con freddo sui piedi strano Canon EOS RP con il 3518 ragazzi un bacio andiamo a vedere un po' di commenti poi andiamo a fare una seconda ricerca cancello dalla mia lista Canon che l'abbiamo già vista saluto alle 7.13 il mattina se ti rialzare alle 7.13 il mattina sarà dura saluto a Samuel Ferraresi ciao la tua prima live che vedo guardate diversi tuoi video poiché sono in ricerca di una reflex o mirrorless da massimo a 600 euro insomma fuoco perso ok fuoco ripreso qui siamo un po' sopra abbiamo detto 871 più 579 siamo sui 1400 1500 euro siamo un po' di più vediamo che modificatore prendere per ah Nelito Monte qui siamo su lingue spagnole latine non lo so perché non conosco così bene l'infiniti tante volte questo lo dico io sono un po' più esperto no nettamente più esperto in fotografia perché le ho provate un po' tutte di cotte crude nel mondo dell'audio no affidatevi a un buon negozio di alta fedeltà mi spiace Gelluco va bene solo per Andrea mi sono un po' perso ragazzi mettete like al video ragazzi come sempre se volete sostenere il mio canale quello di Gesualdo quello di Manuel Agostini quello di Giussimo che avete visto prima i like sono importanti saluto a Mauri che sarà collegato sono indietro ragazzi con i commenti perdonatemi prima appunto dell'inizio dell'offerte Giussimo un giorno con l'occasione di stringerti la mano speriamo di sì sì non gomito gomito incrociamo le dita non solo per l'offerta su Amazon ma adesso torniamo a vederle abbiamo visto le prime due ma che questa pandemia ci liberi e possiamo ad abbracciarci davvero tutti vorrei conoscere dal vivo Giussimo vorrei conoscere dal vivo il mitico Gesualdo che dice che si vede bene vorrei conoscere dal vivo tutti voi da me si vede benissimo speriamo Robi 2.0 si vede e si sente bene arrivo ai commenti dello 0.0 poi torno a vedere le offerte ottimo audio e video ubiquitas tutto ok dai che devo prendere il Mac no forse devi andare a vedere proprio il mitico Manuel Agostini perché io non mi occuperò di quello che è il mondo Apple Nicolim adesso si vede bene che mi ha fatto un refresh della pagina io mi vedo ragazzi benissimo e stiamo aumentando siamo 168 tutti pronti lì per beccare le offerte un altro po' di commenti poi torniamo a fare ricerca eh sì Michele per la Lego qualche eccezione assolutamente la faccio per chi si fosse appena collegato in questo canale si parla di fotografia giustamente facciamo vedere qualcosa di fotografia la mia mitica Panasonic GH5S dopo cerchiamo le offerte anche di Panasonic si parla giustamente di audio insomma avete dietro chitarre e batterie ma giustamente di conseguenza le offerte sono quelle riflessi pedagogici cavolo quindi mi sa che è un canale impegnato tutto si vede sebbene attivamente spero trovare la Black Magic eh c'è ragione mi segno Black Magic da cercare anche Black Magic la lista è lunga Tedio i tuoi capelli non è che non ci sono nell'inquadratura non si vedono esatto questi sono gli effetti speciali di StreamYard i capelli in realtà io ho dei boccoli bellissimi e ricci ma con effetto speciale l'ho tolti dico questa cosa gli eter messaggi cattivi nei miei confronti tutti le accetto escluso quelle sui capelli è una parte di me che non sono riuscito ad accettare spero Panasonic che faccia qualcosa soprattutto per le lenti la serie Lumix se si si è Panasonic è tra le cose da cercare le andiamo a vedere commenti dell'11.58 e vai grande giallo Roberto Carboni buonasera a tutti Luca DJ ci siamo erano le 11.59 mezzanotte vai le luci le luci ci sono le luci ci sono vanno benissimo e speriamo ci sia qualcosa di buono quest'anno fino adesso inizio ottimo Pasquale Leo preferiste acquistare accessori audio o video? gli devo acquistare un mouse no dal punto di vista audio e video sto messo benissimo anzi per fortuna che mia moglie sta dormendo con le bimbe perché i miei acquisti mia moglie li teme come potete ben immaginare buonanotte o buongiorno io direi buongiorno era commento dell'11.59 sono un momento feticista tecnologico Panasonic Lumix G100 sei un vlogger sì è effettivamente una macchina molto interessante trovi la mia recensione su YouTube questo commento aless 02 ita buon prime day a tutti e su di lui torniamo a fare ricerche chiudi qui perché non mi si chiude grazie torniamo prime day marchio che farei a cercare adesso è Sennheiser Sennheiser sbamma e lo sapevo lo sapevo lo sapevo sorso d'acqua e guardate quella di 599 è una tradizione queste cuffie diventano anche introvabili tutto l'anno quando c'è il black friday e il prime day riescono fuori e riescono fuori al solito prezzo minimo qualche volta sono scese leggermente sotto guardate nelle statistiche vedete il 2 giugno del 2020 sono scese sotto 9250 ma le segnalo perché in pratica sono come delle 560S minime differenze sonore tanta resa se volete entrare nel mondo dell'audio Sennheiser vi faccio un'anticipazione che ho in prova le HD800S di loro arriverà la prova quest'estate ho già più o meno una mia idea però voglio fare un bel video dedicato a loro perché è doveroso ma andiamo a segnalare sul canale Telegram che trovate qui sotto mi raccomando iscrivetevi perché ci saranno offerte segnalate oggi e domani e in tutto l'anno se vi interessa audio e fotografia è il canale Telegram per voi ma andiamo a scrivere questa cosa qui quindi lo sapevo che Sennheiser usciva ed è anche una cuffia assurda perché fuori delle offerte lei torna a 179 euro ma siccome si sa che poi tornerà a 99 euro vorrei saperlo ma voi conoscete qualche folle o uno di voi mi spiace la pagate i 179 euro perché è assolutamente una follia pagarla quella cifra immancabile come l'offerta per le cuffie ideali con cui assaggiare la firma sonora Sennheiser copiamo copiamo il nome copiamo il link e copiamo l'immagine ok e torniamo un attimo su di voi in questo prime day che sta partendo bene cioè almeno vado infatti su Matteo che dice cuffie 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 Matteo sì sì ci siamo le cuffie ci sono fotografia e cuffie per adesso siamo partiti bene vado a depennare Sennheiser poi è lì con Dioro ciao Gianluca ho appena acquistato la sony 7c sono in circa di un 35 mm confido nel prime day e quindi sì potremmo andare a vedere sony potremmo andare a vedere sony dopo ma adesso 10 minuti di commenti il 20% sul warehouse dovrei andarlo a cercare ragazzi Claudio G c'è il 30 Gianlu 35 l'avevo già visto no l'RP sconto non ho abbastanza soldi solitamente dovrebbe essere un'offerta per due giorni quindi ragazzi pensateci vi trovate tutti i link selezionati nel canale Teleram il secondo link di sotto nulla della mia lista è un'offerta che sfortuna mi spiace però ci facciamo una bella chiacchierata in compagnia che ne pensi delle VFX B700 di sony 50 euro non le conosco ammetto candidamente che non le conosco buonasera Renzo P che è ricollegato alle 12.04 siamo già 12 minuti indietro con i commenti provo a recuperarli ma ovviamente ogni tanto torno a cercare le offerte e guardarle insieme con voi chiedo consiglio per la G7 Mark III o la Sony a 6100 sono due cose diverse molto diverse allora se non sbaglio la G7 aveva il sensore a PSC controlla innanzitutto il sensore ma poi la Sony ha ottiche intercambiabili la G7 X no il discorso è questo la scelta tra compatta e macchina a ottiche intercambiabili è questa se tu cerchi una fotocamera dicendo io voglio una cosa che ci faccio le foto così com'è e dopodiché non andrò mai a comprare altre ottiche potrebbe aver senso la G7 ma se tu pensi di appassionarti alla fotografia quindi poi voglio mettere un ottica macro un 85 un 8 per fare il ritratto voglio prendere un 70 300 anni economico che voglio fare una volta nella vita un safari fotografico allora le ottiche intercambiabili ti si aprono un mare di possibilità se invece tu compri la G7 X Mark III ottima macchina con quella ottica nasce e se tu vuoi cambiare ottica devo proprio vendere tutto e tu mi dici che hai già usato una D1100 quindi Mickey chiediti già con la D1100 ti era venuta voglia di comprare altre ottiche se la risposta è sì allora prenditi la D6100 della Sony altrimenti se tu dici già con la D1100 ho sempre utilizzato il 1855 di serie allora la G7 X è più compatta più trasportabile e qui secondo me il ragionamento che devi fare Fabrizio Vasconi che dice aiuto non so perché Claudio L Airpods Max da scontare del 30 colore nero andiamo a vedere anche l'Airpods perché comunque entra nel mondo dell'audio la lista è lunga ragazzi io durerò fino a luna perché comunque domattina vado a lavorare ci guardiamo se ci sono delle tavolette grafiche nel mio elenco avevo già scritto Wacom quindi c'è Panasonic delle offerte però la compatta la FZ e andate a cercare le G G e GH buonasera Gianluca Dario Manfrone mi sa che Scudisoni Warehouse è scontata sì il Warehouse magari fuori diretta metto il link ci deve stare sempre l'offerta il LOX GE 85 anche se l'offerta non è Prime Day beh è un ottimo prezzo il P20 delle buone in-ear wireless Bose mi sono riempito il foglio Bose pure da andare a vedere se ha sparato qualcosa che obiettivo acquistare dopo il 55 o il 50 Canon dipende dalle esigenze ragazzi non c'è una scelta cioè se io faccio ritratto l'85 devo avercelo punto se io faccio paesaggio averci un grandangolare spinto quindi non so un 11-22 in APS-C una cosa del genere ti serve quindi dipende dalle tue esigenze se vuoi fare macro devi avere un'ottica macro e via dicendo non c'è una lecce ci sono le Fidelio in offerta arriviamo ai commenti delle mezzanotte 10 poi torniamo a vedere qualche altro marchio speravo sconti su tre piedi testa Manfrotto ce l'ho in elenco Manfrotto tra le cose a vedere perfetto come sempre grazie per questa live felice di essere d'aiuto vedremo degli obiettivi per Fujifilm e no non ce l'ho scritto un elenco aggiungo Fujifilm mancanza grave non fare una ricerca su Fujifilm lo so lo so però mi voglio perdere nessuna tua live ragazzi mettete mi piace iscritti e campanellina ma lo sapete tutti lo dicono tutti gli youtuber sui canali qualche offerta vinile o Bose Bose l'ho messo infatti adesso andiamo a cercare ti confermo che c'è il 30% sull'usato dovrei cercare il link e poi lo metto su Telegram comunque ottimo siamo arrivati alle 12.10 quindi torniamo a vedere le offerte che andiamo a cercare io andrei a cercare Sony Sony tutti gli anni solitamente ha messo Prime Day qualche asset in offerta vediamo un po' non vedo un asset sotto d'acqua Sony che mi neghi un asset in offerta che mi neghi un asset in offerta ma che te possino Sony Sony ma questo è interessante ok un RX100 la guardiamo dopo se valida ma dov'è la Sony A7 Sony dov'è la Sony A7 eh sì ragazzi sto esagerando ho fatto un po' il teatrale però è vero questo è il primo anno in cui la Sony non mette una Sony A7 il primo il secondo una 7 1 a 7 2 niente allora c'è una buona cosa di fotografia e una due ottime cose di audio che spariamo prima allora andiamo prima allora le due cuffie ma prima andiamo a vedere ho visto l'RX a un prezzo che non sembra male lo verifichiamo l'RX100 terza versione sensore da un pollice un 2470 128 Zeiss e il mirino compaiono dei pois in streaming però vediamo se è vero è lo stesso minimo storico di 3 anni fa ma torna infatti questo è il discorso vedete prezzo più basso era 3,99 3 anni fa i prezzi di offerte di Prime Day tornano come quello della Sony A7 e la Sony A7 dove l'è nascosta ragazzi tenete ad occhio appunto il mio canale Telegram se dovesse riuscire fuori la Sony A7 ovviamente nel canale Telegram ve lo segnalo però questa ragazzi se cercate una compattina quello che chiedeva uno di voi prima questo davvero è piccolo come una scatola di gomme da masticare un nulla ma ha il mirino ha un'ottica Zeiss e un sensore da un pollice questa per me è la serie di RX arrivata alla settima versione se non mi sbaglio è e sempre rimane la compatta per eccellenza e la segnaliamo sul canale Telegram solita procedura quindi abbiate pazienza mentre scrivo su Telegram considerate che il prezzo di questa compattina è 8,50 grazie ai Pran Day scende a un prezzo già visto tre anni fa ma meno della metà ci perderò parecchio tempo con Sony perché ci stanno tutte le offerte lo scrivo torna al prezzo minimo storico del 2018 virgola comunque un prezzo ottimo per una compatta con sensore da un pollice e ottica Zeiss 1828 che su una compatta non è poca roba sarebbe la terza lezione del RX100 ci mettiamo il link non mi scorre il mouse ok ha ripreso funzionale ci manca che mi molla il mouse ci mettiamo la fotina ok poi torniamo indietro alle cuffie e c'è una doppia scelta perché io avrei visto le mitiche ecco VH1000 sono quelle che hanno la riduzione rumore che secondo me è lo stato dell'arte della riduzione rumore ma c'è sia la quarta versione che la terza versione vediamo la quarta versione che prezzo è 319 Kipa secondo te com'è 319 è un minimo era 325 sotto Natale quindi periodo delle offerte natalizie adesso 319 se volete lo stato dell'arte della riduzione rumore ma comunque sono comode ottimo autonomia suono davvero ottimo perché potete configurarlo come caspita vi piace dentro l'app dedicata straconsigliate comunque allora si ricomincia indiscritta il vecchio prezzo era 339 comunque scende di poco però insomma se l'avevate nella lista dei desideri c'è senso e diventa 309 sono le migliori cuffie per riduzione rumore attiva e scendono al minimo storico ma occhio che c'è anche la terza versione che non è che la terza versione faceva schifo con la quarta versione hanno alzato l'asticella ma la terza c'era davvero tanta roba quindi adesso vi vado a segnalare anche quelle uff immagine uff e si manda andiamo a vedere se la terza versione lo sconto è buono oppure no qui siamo a 2.19 ragazzi cosa dice Kipa dice no dice no ovvero io ne parlo ma non ve lo segnalo su telegram perché comunque il 20 aprile del 2020 quindi l'anno scorso stava a 2.69 il che vuol dire che come prezzo insomma è buono però non ve lo consiglio quindi diciamo un attimo ciao Sony e torniamo a vederci un po' di commenti altri 10 minuti di commenti ci sia qualche offerta riguardo a Fuji allora cancello Sony che l'abbiamo vista e poi andiamo a vedere Fuji su Face Pro dice Pastianello Luca come ho già detto vi parlo di offerte foto e offerte audio sull'informatica il buonghella secondo me potrebbe esservi d'aiuto dicevo non vorrei far durare la live troppo a lungo quindi fermiamoci a questi due argomenti ho visto un video che ha IRME adido e DAC come si sente una favola costa un botto pare sui 1400 euro il pagato usato 800 euro l'usato è la cosa che salva noi appassionati d'alta fedeltà ha un'interfaccia fatta malissimo ma ci fai tutto e ha una resa sonora top Bose Edoardo adesso andiamo a cercare Lorenzo dice dice trovare su Prime Day qualche Rotel buon prezzo Rotel l'ho vista pochissimo su Amazon Fabrizio un Prime Day così è un mezzo miracolo su un anno che abitavano così ricca offerta a prezzi realmente ai minimi stiamo uscendo ancora ragazzi incrociate le dita insieme a me da questa pandemia quindi speriamo di vedere Filippo Fujifilm adesso lo andiamo a cercare Fujifilm BPL comprovo il giorno fa Fuji S10 1855 perché era comparsa un'ottima offerta da Warehouse e avevo paura di aver fatto una cazzata no il Warehouse ragazzi ci ho comprato di tutto fotocamere smartphone cose audio è straconsigliato perché è l'usato garantito di Amazon quindi il solito discorso ve lo portate a casa controllo autofocus se ci sono ve lo portate a casa lo provate se c'è qualche problema lo restituite quindi straconsigliato appena riesco a trovare il link ve lo metto su Telerama dovrebbe esserci il 30% grazie per la tua recensione grazie a voi ragazzi che mi seguite vi sparo anche un bel pulicino come riesco a farlo bene io solo io Giuseppe DJI Ronin sì ho il list DJI ragazzi ma un pochettino voglio anche leggere i vostri commenti Pietro vorrei prendere un MyTech Brooklyn anche quello costa un botto splendido c'era un mio amico fotografo che dovrei andare a sentire a sua casa Signizer Momentum 3 a 2.80 e anche quello c'è la mia recensione cercatela ragazzi lente micro per Lumix per corto stop motion in stop motion prendi il 30 macro grazie in anticipo se lo trovi adesso andiamo a cercare anche Panasonic facciamo quello che possiamo ma ragazzi vi ripeto qui sotto il primo link è tutte le offerte prime divertitevi il secondo link è il canale Telegram se vi fidate di me iscrivetevi non vi romperò troppo le scatole in questi due giorni qualsiasi offerta buona ve la metto lì qualsiasi offerta non buona non ve la metto e non vi rompo le scatole appena preso le Bose ottimi secondo me adesso mi servono delle Bower Wilkins e adesso andiamo a cercare anche Bose ma voglio alternare un po' la chiacchierata con voi alla caccia all'offerte segnalo che Amazon con credit line fino a 22 finanziamenti a tasso 0 massimo 10 rate per tutti i clienti prime non mi piace molto la logica dei finanziamenti secondo me il discorso da fare posso permetterlo compratelo subito se non posso permetterlo i finanziamenti sono un meccanismo che non mi piace ma non parliamo di quello Insta360 altro marchio da cercare mero segno a chi la sto utilizzando l'Ista360 se avete visto l'intro di fuori delle scatole è fatta con l'Ista360 l'ho agganciata sul mio aspirapolvere quindi prima inquadra in avanti poi tiro su l'aspirapolvere mi fa tipo selfie stick si gira e inquadra a me che figata che permette di fare tira su un po' di rumore l'Ista360 ma a parte quello è una figata grande dice Luca cosa mi consigli con 500 euro se mi capita link in telegram per adesso non ho visto nulla mamma quanti commenti ragazzi Giuseppe Nikon Z6 in offerta niente mammo passiamo a Nikon vediamo Giuseppe Foglia Sony a 5005 forse non consiglio Miki grazie a aver risposta super sostiva contento di esservi d'aiuto è per questo ragazzi per chiacchierare con una community il cui vostro affetto non può che farmi enormemente piacere Samuela c'è un M50 completo obiettivo e 599 sono mazzone o Fujifilm XT200 sono indeciso io ti direi Fujifilm non perché l'M50 vada male e lei mi sta inquadrando ma perché non si sa che caspita deve fare canon con la sua baionetta EFM vedremo per adesso tra le due direi XT200 se è NASA che è 1599 sì da prendere se non l'avete ragazzi da prendere c'è Samyang adesso vediamo Mirko mi consigli di una fotocamera compatta con sensore APS-C sotto i 500 l'abbiamo già vista o l'M50 beh forse sarebbe sopra o l'XT200 ma andiamo a vedere giustamente e siamo arrivati ai commenti delle 12 e 20 Nikon ragazzi penso che sia il momento di passare a Nikon vediamo un po' aspetta Z5 ah 5006 vediamo Z50 è interessante è interessante la Z50 fermi 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 è due volte la stessa ma non è male questa Z5 ok pacottiglia qua sotto ma ragazzi la Z5 allora vediamo un attimo quel 24 50 la Z5 allora è un'offerta non eccezionale ragazzi vedete l'ha già sceso già del 7 giugno stava 1556 che non è male ma è scesa ancora dai 1749 che stava aprile maggio chi ragazzi se non l'avete straconsigliato questa sì questa sì andiamo subito a telegrammarla che ne vale la pena quindi il prezzo di listino di queste ragazzi è 1749 quindi davvero un'offertura questa ragazzi prime day Amazon grande ci sta dando dentro vuol dire che ha spinto con l'azienda io mi immagino i tavolini di i dirigenti di Amazon e i dirigenti della Nital che distribuiscono appunto i prodotti Nikon in Italia che hanno detto no giù giù dovete abbassare l'hanno fatto l'hanno fatto anche prima hanno fatto un prelancio però il prezzo effettivamente è buono minimo storico per la mirrorless full frame questa l'ho provata grazie Aldo Ricci Aldo se mi stai guardando ancora un grazie perché l'ho provata grazie a lui Nital è un po' cattivella con me che mi deve mandare tutta la serie 2 Z6 Z7 2 da provare per la mirrorless full frame quasi entry level ma completa sono sicuro questa è una cosa che sembra a me far rabbia no qui non ci hanno messo la scheda SD quindi correggo comunque no si c'è vedi allora quando tu compri la Z6 Z7 mi dai un XQD di serie no la Nital non te la dà te la compri a parte l'XQD che costano un botto poi le cerchiamo subito finita questa subito l'XQD andiamo a cercare ma quando tu compri invece le macchine che non utilizzano l'XQD l'SD te la regalano furbastri ma completa di SD quindi ci sono anche 4 anni di garanzia quindi insomma c'è sempre un mare di roba più SD più più 4 anni di garanzia ci lo scriviamo pink copia v copia immagine page boom ve lo faccio vedere andiamo un po' a prendere su Prime Day e a vedere se ci sono un XQD tanto per vedere c'è un XQD in offerta no e questo è il brutto non ce ne sono e se qualcuno se lo chiede anche se non si tratta e prende quanto costa un XQD mi compro la mia prima macchina prendo un XQD da 64 piccola 135 euro 64 giga 135 euro quanto costa un SD dal 64 gigabyte ma non prendiamo una male una Lexar 28 28 quanto abbiamo detto prima 135 107 euro di differenza quindi in Italia che non me la dai una di serie sai quanti ne vendresti di più di fotocamere secondo me ma torniamo su Prime voglio cercare un altro marchio audio per fare un po' foto audio foto audio bolse sì allora ci sono queste non le ho mai provate le 700 le vedrei tra un attimo ma uno speaker il Soundlink è stato il mio primo speaker bluetooth quello che mi ha fatto riappassionare di ascoltare alta fedeltà come si deve trozzo d'acqua tutto costruito di metallo è un oggetto fantastico 114 25 il 16 maggio lo segnalo uguale allora vedete sul telegramma sono sempre onesto cioè commento non è il minimo storico ma è un ottimo prezzo perché il suo prezzo pieno è 189 euro se volete uno speaker bluetooth piccolo è figo è figo è tutto metallo la sua cornice esterna che suona anche bene per quelle che sono le sue dimensioni mentre non faccio quelle battute ah è meglio dell'impianto hi-fi no l'impianto hi-fi è anche quello su cui ci ho fatto il video ai 150 euro è meglio del Bose ma per quello che è uno speaker bluetooth dico non è proprio il minimo virgola ma ottimo ma no quasi minimo sono 5 euro in più per secondo me il migliore il migliore per rapporto dimensioni barra estetica barra suono per dire esistono speaker più piccoli sì ma non con quell'estetica o quel suono esistono speaker con il suono migliore sì ma non con quella dimensione o l'estetica capitemi queste tre cose su questo speaker sono al top provate cose migliori ma non su il bilanciamento di questi tre aspetti scaffiamo dentro il lincolo scaffiamo dentro anche l'immagine un e in via ma torniamo a parlare delle cuffie e vediamo un po' queste 700 poi torno a voi facciamo una pausa commenti ma risalto agli ultimi perché siamo troppo spalzati come tempo che dice prezzo migliore 259 e 99 sì offertona e sono scese di 30 euro questa è una vera offerta ma non le ho mai ascoltate quindi la vado a scrivere su telegram ma prendetela con le pinze davvero comunque ragazzi bello ricco quest'anno il prem day e stiamo vedendo poca roba poi vi dico canale telegram ragazzi iscrivetevi finisco la live e vi dedico una mezz'ora a testa bassa a pubblicare le offerte cercando tutti i nomi dj wacom nikon l'abbiamo fatta wacom manfrotto panasonic fujifilm blackmagic yamara ista 360 airpods fidelio insomma un po' le facciamo insieme in live che è più divertente siamo 173 ragazzi grandi un po' le facciamo insieme ma un altro bel po' lo facciamo invece indifferita con il canal italian qui sotto queste costavano 399 95 adesso scendono a 229 euro mi piacerebbe tanto farlo purtroppo non ho più le sony ma fare una sfida sony controbuse perché nell'ambito dei cuffie bluetooth da viaggio con riduzione rumorativa è una bella sfida tra loro non sono mai riuscito a sfidarle infatti scrivo anche non le ho mai ascoltate virgola ma comunque minimo storico per il brand comunque che ha lanciato davvero la riduzione rumore attiva sono quindi the boys noise cancelling appunto headphones 700 ci mettiamo il link mettiamo l'immagine e lo mandiamo ok e torno un attimo su di voi ragazzi un po' di commenti di salto voglio andare su quelli più recenti allora allora francesco giallo lascia stare il prezzo sono made design nice hd 560 e il 599 sono quasi identiche utilizzano lo stesso driver le 560s sono un po' più recenti come design e un estetica siamo lì con il lost g il p20 secondo me ci sta molto bene tommaso sui cellulari non mi esprima perché non ho esperienza io utilizzo un che poi dovrei metterlo a caricare che sta per morirmi sì infatti un se mi prendo un colpo un s20 normale neanche il plus e lo sto utilizzando da tanto tempo se cercate consigli mondo mobile avete visto prima l'ho salutato mitico Gesualdo lo monaco pietro paolo severino ringrazia come cuffie cablate le sennheiser vi ho messo il link nel caratteri qui sotto spero nel fuji non l'abbiamo ancora cercata dovevo cancellare bolse che l'abbiamo già vista di panasonic dice andrea c'è il 25 mm ma adesso dobbiamo cercare panasonic dai video players ciao prima di tutto grazie mille c'è qualche coppia di diffusori conveniente sarebbe da vedere la lompu se aggiungo alla lista dei controlli sia fatto offerta in più da binare con cambridge ottimo e con play fatto con raspberry e volumio grande il mio video fatto su raspberry dovrei parlare di meno sia per la uova sia per le bibbe dovrei parlare di piano quel video fatto nel 2018 a distanza di tre anni c'è ancora gente che mi scrive per chiedermi ma qual allora ragazzi io non mi ricordo più nulla l'ho fatto tre anni fa però ancora c'è gente che sperimenta se avete dubbi scrivetemi in privato amare su istram vi segnalo un gruppo su facebook dove ci sono tanti appassionati che si dedicano appunto a rasperry volumio e cose simile il cava ciao mitico concittadino tolentinate tolendimia ci hai parlato di cofinir per adesso nessun nessuna offerta segnalata saluto project sefirot matteo b fidelix di nuovo 99 circa vado a vedere minimo storico mi sa alessandro cobida tutti notturni infatti 174 persone sveglie a mezzanotte e 44 a dormire questo è marchigiano quanto costa una palla audio top che intendi che intendi per palla audio un saluto a tutti dalla Puglia quanto vorrei tornare in Puglia olympus non ho visto niente stanno a vedere e sentito la buzz noise mi sono piaciute quindi Aaron Baldassarre le consiglia allora si era detto cosa andiamo a cercare ok cosa andiamo a cercare io butterei un innanzitutto Prime Day Fujifilm che ci proponi Fujifilm aia Fujifilm in offerta ci propone il nulla mi spiace per adesso niente ma seguite sempre canale telegram che se esce qualcosa voglio vedere mi hanno detto Insta360 vediamo un po' se ha sparato qualcosa Insta360 no accessoristica no no Philips Pelle Fidelio Philips allora mi scappa fuori tutto il mondo Philips si chiama proprio Fidelio Fidelio sì 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 assolutamente sì non le ho mai ascoltate potrei fare anche una pazzia però mia moglie mi uccide meglio di no però ve la segnalo controlliamo con Kipa sì è lo stesso prezzo comunque dell'anno scorso allora io in realtà ho ordinato delle cuffie Philips su drop ma stanno praticamente in attesa da un mese perché vorrei ascoltare delle cuffie delle Philips potrei prendere queste ma mia moglie mi uccide perché ho già fatto l'ordine su drop e dice piano c'è Luca piano però le segnalo a voi un calo non clamoroso 40 euro ma c'è allora telegram scriverà proprio tutti ne parlano bene io ancora non le ho ascoltate vecchio prezzo metto che erano 139 euro nuovo prezzo 99 euro tutti ne parlano bene anche se io non le ho mai ascoltate però minimo sono le Philips Fidelix codice fiscale con i nomi stesso vizio che hanno quelli da Sony ci mettiamo il link mi intreccio con le sessioni copia immagine telegram boom bene e cancello quindi anche Philips l'avevo scritta sì eccola qui mi avevano segnalato poi prima giustamente DJI che vorrei vedere Prime Day DJI due offerte secondo me interessanti il Mavic Mini che ho preso usato l'anno scorso infatti vedete ha acquistato questo articolo il 16 dicembre ma quello usato e ha un po' il prezzo se ne vale la pena 388 a febbraio 349 sì e quindi vado a scriverlo sul suo d'acqua con il mio drone ci ho fatto le riprese della demolizione della casa in cui sono riuscito volevo fare un video in cui mi vendevo le cose l'avevo iniziato in un modo probabilmente lo finirò in un altro forse ve le mostrerò quelle riprese sì vorrevo ho fatto l'assicurazione tutto per pilotarlo avrei voluto farci la prima ripresa da pilota ufficiale si fa per dire in una situazione più lieta ma andiamo a segnalare su Telegram ottimo brone ah e ci ho fatto il mio primo crash guidavo in avanti guidavo pilotavo in avanti movimento circolare ero basso e non ci ho pensato e quindi paff sono finito in mezzo un albero fortunamente era lì vicino una signora ma che cercate un drone mi è cascato in mezzo all'orto mi ha pure messo paura io signora scusi recuperate il drone il drone sta benissimo ripreso a volare è finito lì sempre attenzione quando si guida col drone consiglio banale ma me l'ha detto anche il mitico Antonio Feliziani che mi ha insegnato a pilotare mai perdere il contatto visivo perché se ci sono i sensori sì sei assicurato ma sempre contatto visivo col drone è banale guardavo la ripresa lateralmente i sensori sul Mavic non ci sono paff dicevamo quindi minimo storico per il drone facilissimo comunque da pilotare è anche quello che è un po' frega siccome è facile da guidare ti fa sentire sicuro di te e quindi ma vado mai perderlo di vista dare e questo è il kit più completo tre batterie paraliche e borsa nel kit più completo questo è importante prendere la versione non combo secondo me è una cavolata per il DJI Mavic questo copia paff fotina copia paff invia ma se siete dei videomaker e volete utilizzare la vostra videocamera fotocamera su un gimbal che sia fatto bene e allora ragazzi c'è a dirlo questa sembra un'offerta bomba andiamo a verificarla errone in sc qualcuno di voi prima me l'aveva già segnalato nei commenti 209 mi sembra davvero poco anche di questo trovate la recensione sì è 20 euro del minimo del 24 20 euro meno rispetto al minimo del 24 marzo 2021 quindi straconsigliato ve lo segnalo è fatto semplicemente troppo bene quel gimbal il prezzo pieno questo qui sta a 359 e arriva a 209 ragazzi il prime day quest'anno per me assolutamente promosso credite anche voi c'è qualcuno di voi ditemelo che ha trovato cose utili finora non tanto tra quelle che sto segnalando io ma in generale scorrendo che so che state scorrendo anche mentre io sto parlando ottimo gimbal ma soprattutto minimo storico link e mettiamoci l'immagine ok quindi passata a dicevamo l'oxg di darci un'occhiata che ora abbiamo fatto eh sì stiamo andando un po' verso fine live il P20 non è un'offerta prime Kipa tu che ne dici e non è comunque il minimo è sceso a meno è sceso 80 euro quindi questo no è un buon prezzo però non andiamo a perdere tempo volevo vedere le Lompu che sono quelle casse che avete comprato tantissimi sull'impianto eccole eccole e secondo me è un prezzo ancora più basso di quello che ho pagato in suo tempo no no sono arrivate anche 50 euro no 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 fermi 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 e una settimana fa stava a 67 questa la saltiamo quindi cancelliamo anche Lompu Wacom volevo andare a vedere le tavolette grafiche ma tra di voi c'è qualcuno come me che si dedica alla fotografia e il Prime Day la S non c'è una M la M 229 non è segnata 299 mi sta di no controlliamo con Kipa quello che dice Kipa caricati Kipa stai impazzendo no infatti 255 no Wacom niente Manfrotto si può il caso di tornare da voi Mari per l'ultima commentata prima di chiudere ok si si c'è la serie economica che potrebbe non essere male ma vediamo questo il Bfree il 190 pro però non è Prime Day questo per adesso mi sembra quello meglio con la testa tre movimenti però questo è meglio Bfree vediamo un attimo che dice Kipa no niente di che 120 124 è buonina non è malvagia vediamo un po' quest'altro con la testa tre movimenti che secondo me è meglio che è uno 055 la testa tre movimenti due movimenti no tre assi si tre assi stava 179 no Manfrotto siamo mosci ragazzi ragazzi io direi che per adesso torno sul mio faccione e vado un pochettino a salutare un po' di gente quindi gli ultimi commenti e poi chiudiamo la live ma comunque andrò poi a gonfiare di roba qua sotto ma un flash flash mi le appunto ragazzi aggiungete il canale telegram che cerco di riempirvi speaker bluetooth riva audio dateci un'occhiata riva audio è un marchio che non conosco quindi me lo appunto però arriva audio da studiare ragazzi il bello delle community è anche questo ma 145 persone all'una che fate dicevo il bello delle community è questo non sapete quanti marchi ho scoperto grazie a voi con un piccolo corredo di ottiche minolta c'è un corpo solo interessante appunto che minolta sono rimaste le poche slt con cui utilizzi altrimenti deve andare adattatore purtroppo io nel 2008 ho venduto tutto corredo minolta e aveva senso nel 2008 per passare a nikon adesso è davvero difficile randenni c'è la z5 l'ho segnalata mi raccomando canale telegram trovate tutte le offerte sia quelle che abbiamo visto in questa live sia tutte quelle che usciranno nelle prossime 48 ore ricordo che il prime day dura 48 ore ma comunque nel canale italiano qui sotto io metto sempre offerte poche selezionate e verificate sempre quindi seguitemi randenni la z5 sei segnalato matte già che si parlava di drop sono in sconto anche loro con vari prodotti per cui le tue bayern e si sono lì sopra 17 i soldi ci sto facendo un pensierino se non avete fretta e considerate la dogana anche su fuori dalle scatole ho segnalato un amplificatore carinissimo un DAC DAC amplificatore della radson lì a studio l'ad100 io ci ho pagato 93 dollari o prezzone 29 euro di dogana dogana purtroppo è un'ammazzata sempre lì cuffie auricolari le andrò a cercare se ci sono Galaxy Buds a 80 euro dice Ettore tanta roba sto Prime Day si ragazzi continuo un'altra mezz'oretta a selezionare link qui sotto a Telegram ok grazie state cliccando tra di voi si Telegram ha emesso il drone con il prezzo delle cuffie dopo correggo grazie Alberto il GorillaPod Joby quindi vado pure qui a scrivermi Joby se c'è qualcosa interessante Atomos Ninja sul Warhouse devo andare a guardare il Warhouse infatti Warhouse mamma mia i commenti Godox ragazzi spero di farcela in una mezz'ora a buttarmi su tutta la roba mamma 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 sono i 59 Sam Young mamma mia tanta roba Bayer Dynamic allora 770 90 Pro carissimo Alberto assolutamente sì consigliato grazie mi avete fatto compagnia in questa ora di delirio è il Prime Day piuttosto che abbia mai visto vi ringrazio vi saluto adesso mezz'ora testa bassa quindi risparmi la voce e se no le mie bimbe e i condomini sono in condominio mi mandano a quel paese vado a continuare a selezionare offerte quindi tanti curicini per voi qui sotto su canalitaria ram continuerò a segnalarvi il meglio del meglio grazie a tutti ragazzi e buona serata e buon Prime Day ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti